Ora siamo all'interno dell'ingresso della città proibita, questa era la sede del Palazzo Imperiale, se avete visto l'ultimo imperatore di Monicelli, qua è dove viveva l'imperatore Pui. L'ultimo imperatore di fatto, anche se una volta salito al trono, lui non ha mai avuto il potere effettivo in Cina, in quanto a governare l'imperatrice reggente Cissi, la nonna, lui è salito al trono intorno ai, adesso non ricordo se sono tre o sei anni, e nello stesso periodo nacque anche la Repubblica Popolare Cinese e lui fu sostanzialmente relegato, esiliato all'interno della città, gli fu concesso infatti di vivere a condizione che non uscisse dalle mura delle città proibita.